Grazie Presidente. Questa mozione noi la bocceremo e la bocceremo perché è una mozione pretestuosa ed è una mozione inutile. Chiede che si attui quanto già previsto da una delibera di giunta approvata. Nella Commissione Politiche Sociali dell'altro ieri abbiamo appurato con gli uffici dell'ufficio di scopo Rom Sinti e Camminanti che il bando per la chiusura di Cassano Romano è stato aggiudicato il 21 gennaio e che il superamento del campo è previsto per novembre del 2021. Si chiede con questa mozione di accelerare i tempi perché l'importante è chiudere il prima possibile e togliere il problema. Allora questo problema non lo abbiamo creato noi. In questo caso specifico non è stata la destra ad aprirlo ma è stata anche la destra a mantenerlo, la stessa destra che adesso ci chiede di chiuderlo perché purtroppo crea degli inconvenienti. Se invece quando governavano loro avessero pensato a un piano di integrazione e di chiusura dei campi ad oggi questi problemi non ci sarebbero. Così come non ci sarebbe il problema che quella è una riserva naturale. Allora noi sappiamo come citato nella mozione e come abbiamo anche appurato e ribadito in commissione che i fondi con cui si sta provvedendo a chiudere Cassano Romano ma non solo Cassano Romano anche Salviati ed anche altri campi non sono più i fondi europei ma sono i fondi di Roma Capitale. Noi sappiamo che Roma Capitale sta spendendo dei soldi e sappiamo che Roma Capitale durante la nostra amministrazione ha anche speso dei soldi per pagare i debili fuori bilancio delle bollette dei campi Rom che avevano aperto altri e non è stato fatto niente altro che mantenere quello stato, quello status di vita che non è una vita dignitosa. Allora noi vogliamo fare un'altra cosa e lo abbiamo dichiarato con le nostre delibere sulla chiusura dei campi, abbiamo avuto il coraggio di dire le motivazioni anche umanitarie per cui vogliamo fare questo, non solo economiche ma soprattutto umanitarie e soprattutto per la dignità delle persone. L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo approvato in giunta, lo stiamo portando avanti. Forse dà fastidio che lo stiamo portando avanti, non lo so, non è compito mio accertare questo. Certo che la campagna elettorale è cominciata proprio bene, è cominciata proprio presto e vedo che si specula anche sui risultati che stiamo ottenendo. Questa cosa non va bene, non va bene perché noi abbiamo intenzione di andare avanti e non ci servono le mozioni inutili che ci chiedono di fare le cose entro i tempi. Potranno fare un'interrogazione sulla mancata attuazione eventualmente della delibera entro i tempi previsti dal cronoprogramma, qualora non ce la facessimo, ma noi ce la faremo perché ce la stiamo mettendo tutta e soprattutto perché ci crediamo in quello che facciamo.